Buongiorno da Edo e benvenuti in una nuova settimana con il 26 di febbraio. Nella puntatona di oggi soltanto news che riguardano l'intelligenza artificiale perché ci sono cose molto interessanti anche a livello tecnologico, tecnico, delle novità insomma che vale la pena secondo me di ascoltare anche se pensate che non ne potete più di IA generativa, vi posso anche capire però alla fine sono interessanti gli avanzamenti tecnologici in questo campo quindi fidatevi di me che vale la pena ascoltare anche la puntata di oggi. Prima di andare e tuffarci nelle news una piccola considerazione, un'opinione in questa intro perché due puntate fa avevo parlato di un po' di questioni etiche intorno all'IA e al porno e molti dei commenti che avevo ricevuto tendevano secondo me un po' a semplificare la questione cioè a vederla dal punto di vista liberalista cioè stringendo molto tutto è consentito finché non impedisce ad altri di esprimere la propria libertà insomma e non lede i diritti delle altre persone e quindi nei confronti di un robot, di un software, insomma tutto è lecito il contenuto che produce il software è lecito finché non danneggia qualcun altro. Ecco, io invito diciamo a non semplificare così tanto le questioni perché se l'etica fosse così semplice e il rapporto tra etica e leggi fosse così semplice allora non avremmo migliaia di anni di storia in cui i maggiori filosofi, i maggiori pensatori della storia dell'umanità si interrogano appunto su che cosa sia l'etica e sul rapporto appunto tra etica e leggi se fosse così semplice non avremmo, no? Da Aristotele a Kant è chiaro, anch'io sono abbastanza portato a sposare il pensiero liberale però appunto il mondo è fatto di persone diverse, di sensibilità diverse, di culture diverse e non è secondo me tutto semplificabile. Le leggi anche se potrebbe non piacerci a volte hanno anche un fine pedagogico, no? Pensate a film o videogiochi violenti vietati ai minori di 18 anni, no? Finalità di una legge che è quella di insegnare di creare un essere umano migliore, anzi meglio, forse la sto facendo troppo grossa un membro migliore della società, diciamo così. Potrebbe non piacerci, ripeto, però insomma hanno anche queste accezioni, ecco, le leggi e secondo me va tenuto in considerazione il fatto che anche l'interazione con un software, l'interazione con un robot è parte della formazione di una persona e di come poi questa persona si comporta in una società e quindi forse come società ci poniamo anche il problema di quali atteggiamenti incentiviamo, quali invece andiamo a deprecare, ecco. Butto lì questo piccolo sassolino giusto per incentivare un po' la discussione intorno a questo e non semplificare tutto in, vabbè, quello è un robot, posso fare tutto quello che mi pare verso un robot, un software, e il software è libero di produrre quello che vuole. In realtà non è proprio così, tra l'altro c'è una news oggi che potrebbe sposarsi molto bene con questo e andiamo subito a vederle. Allora volevo iniziare con qualcosa di un pochino più leggero. C'è una vicenda in Canada che non abbiamo mai seguito qua nel podcastone, però è frizzante e adesso che si è conclusa, diciamo si sta avviando alla conclusione, la vado a recuperare. Air Canada, che è la più grande compagnia aerea canadese, è stata costretta dal giudice a risarcire un suo cliente che ha ricevuto delle informazioni fuorvianti da un suo chatbot, da un chatbot sul suo sito. Vado a prendere il riassunto di questa news su Il Post. Quindi Air Canada praticamente cosa succede? Offre delle tariffe scontate per le persone che devono andare al funerale di un parente stretto o assisterlo in caso sia morente. Ecco, questi sono degli sconti riservati ai lutti. Nel 2022 Jake Moffat si trovava proprio in questa situazione, aveva quindi contattato la compagnia per sapere come avrebbe dovuto fare per accedere a queste agevolazioni e come sarebbe stato erogato questo rimborso parziale del volo. E per ottenere queste informazioni aveva interagito con un chatbot, quindi l'assistente virtuale, che era powered by AI appunto sul sito della compagnia. E questo chatbot aveva risposto che Moffat avrebbe potuto ottenere quello sconto compilando un modulo online con una richiesta di rimborso entro 90 giorni dalla data di emissione del biglietto. E quando ha fatto richieste di ottenere questo rimborso, un impiegato, una persona vera di Air Canada, gli aveva risposto che gli sconti per lutto non sono applicabili ai viaggi già avvenuti, dopo che sono avvenuti, ma devono essere richiesti prima, citando la sezione dedicata del sito che spiega questo fatto. E aveva sostenuto che Air Canada non fosse responsabile delle informazioni fornite dal chatbot. Moffat aveva salvato tutta la sua conversazione con il chatbot, ha fatto causa a Air Canada per ottenere il risarcimento della differenza tra le tariffe e Air Canada, pur ammettendo l'errore, aveva provato a sostenere di non essere responsabile delle informazioni fornite dal suo chatbot, cioè sostenendo che si trattasse di un'entità legale separata. Ebbene, il Tribunale per le risoluzioni civili della provincia canadese della British Columbia ha stabilito che la compagnia è responsabile di tutte le informazioni che si trovano sul suo sito, sia quelle che si trovano sulle pagine statiche, diciamo, sia quelle fornite dal chatbot e quindi Air Canada dovrà risarcirlo delle differenze. Passiamo invece alla tecnologia e parliamo di un nuovo modello di AI che si chiama Gemma, è una nuova famiglia aperta, diciamo, di modelli linguistici di Google. Vado a prendere la news su D-Day firmata da Sergio Donato. Allora, Google ha presentato due nuovi modelli linguistici sotto il nome di Gemma, appunto. Sono due modelli da 2 miliardi e 7 miliardi di parametri, costruiti con la stessa tecnologia dei modelli Gemini. Ci sono due differenze importanti, dice D-Day, tra Gemini e Gemma. Gemini è un modello multimodale, cioè una serie di modelli multimodali, cioè sono modelli di Deep Learning che integrano e comprendono più modalità di input per generare poi informazioni. Cioè l'input può includere testo, immagine, video, insomma, altre forme di dati multimediali. E inoltre Gemini è un modello chiuso, sono modelli chiusi, sono utilizzabili attraverso API, ma il codice non è aperto, non è neanche possibile fare fine tuning sul codice da parte di sviluppatori di terze parti. Invece Gemma, 2B e 7B sono modelli linguistici, sono open model, modelli aperti. Da non confondere con open source, scrive Sergio Donato, termine usato erroneamente anche per altri LLM, per esempio, come Lama 2 di Meta. Qui grandissimo Sergio Donato che va a fare una piccola stoccata alla definizione open source dei modelli di AI. Poi c'è una precisazione per open model. Si intendono modelli con pesi aperti, detti anche open weight, che consentono agli sviluppatori di utilizzare i parametri per addestrati del modello per inferenza o per affinare ulteriormente il modello su compiti specifici, ma senza l'accesso al codice sorgente completo o ai dati di addestramento. Possono quindi intervenire solo sui pesi. Sui modelli Gemma, infatti, gli sviluppatori possono intervenire con la tecnica di adattamento di basso rango, LORA, Low Rank Adaptation. Questa, se vi rigolate, l'avevamo già vista, la tecnica LORA. Cioè permette di adattare meglio i parametri del modello per rispondere al proprio contesto, insomma, il proprio caso d'uso più specifico, ecco. I modelli Gemma possono essere eseguiti direttamente su un computer portatile o desktop e Google dice che rispettano rigorosi standard di output sicuri e responsabili. Ecco, su questi rigorosi standard poi ci torneremo nella news successiva. I modelli Gemma sono stati ottimizzati per le GPU e Nvidia, naturalmente, e Gemma è disponibile da oggi ad avverso Kaggle, che è una piattaforma di machine learning, e Swagging Face, poi inoltre essere integrato su Google Vertex AI. C'è la possibilità di provarlo anche con una demo proprio su uno spazio Hugging Face. Quindi se volete andare a vedere già come funziona il modello aperto nuovo di Google che si chiama Gemma, potete andare già a provarlo su Hugging Face. E a proposito di Google, non fatevi scappare anche questa nuova notizia che ci dà sempre Sergio Donato su D-Day. Google ha deciso di mettere in pausa un attimino le capacità di Gemini, questi siamo su Lex Bard, quindi la famiglia più grande di modelli di Google, appunto di stoppare un attimo la capacità di Gemini di creare immagini di persone perché sono arrivate segnalazioni di generazioni di immagini storiche, diciamo, imprecise. In pratica Gemini, che può produrre immagini sfruttando il modello text-to-image, imaging 2, soltanto in inglese e anche in paesi che non stanno nell'area economica europea, per, insomma, i limiti delle leggi, ecco, gli utenti hanno iniziato a segnalare delle generazioni imprecise di immagini storiche, in particolare riguardante il colore della pelle e le caratteristiche fisiche degli umani, insomma, delle persone generate in questi contesti storici. Per esempio, ci sono immagini di soldati tedeschi del 1943, rappresentati con caratteri somatici asiatici o afroamericani, oppure delle donne non rene regnanti, che non era naturalmente possibile, e poi in alcuni casi si è rifiutato, Gemini, di generare immagini di persone con la pelle bianca su specifica richiesta da parte degli utenti. Quindi dopo queste segnalazioni, Google ha inizialmente informato di essere consapevole che Gemini presentava delle imprecisioni in alcune rappresentazioni delle immagini storiche e poi ha deciso di mettere in pausa la propria generazione, mentre sta al lavoro per risolvere i problemi. Un piccolo approfondimento ulteriore e un aggiornamento, oltre ad un titolo assolutamente geniale, viene da The Register. Il titolo di questa news è Google si rimette al lavoro su Gemini per aggiustare il bilanciamento del bianco. Maledetti! E aggiunge questo articolo, peraltro, che erano emerse altre imprecisioni. Per esempio, John Carmack aveva appunto rilevato l'incapacità di Gemini di creare un'immagine dei padri fondatori degli Stati Uniti, insomma, che è un altro gruppo notoriamente tutto bianco, e si è anche rifiutato di generare l'immagine di una chiesa a San Francisco, per qualche motivo. E qui vedete che torna alla questione etica, perché alla fine questi limiti che vengono imposti ai modelli di AI trattano tutte le persone, tutti gli adulti, come fossero dei bambini, proprio con l'intento di impedire di generare delle cose sconvenienti, anche dannose, ecco, per la società. E c'è una dichiarazione, un tweet, diciamo, di Edward Snowden, che ha scritto, riguardo questa vicenda, immagina come se tu cercassi una ricetta su Google, e invece di darti i risultati di questa ricetta, cercassi di spiegarti quanto è pericoloso cucinarsi le cose da solo, e quindi invece ti desse il link a un ristorante per andare a mangiare lì. E concludo dicendo anche che chi pensa che questi limiti messi ai modelli siano una buona cosa, è una minaccia, ecco, è un problema per l'intero mondo della computazione. Naturalmente, come ci dice The Register, non è totalmente sbagliato impedire alle persone di creare delle cose che potrebbero, ecco, essere dannose per la società. Immaginate, per esempio, poter creare la ricetta del Novichok, il noto agente nervino, e che quindi la risposta possa essere poi utilizzata per uccidere delle persone. Insomma, è questo un problema, un potenziale pericolo per la pubblica sicurezza. Sicuramente se ne riparlerà ancora. Concludo aggiungendo che Google ha dato poi una spiegazione ufficiale all'accaduto e come un po' tutti si immaginavano, ecco, il problema era che questi limiti, questi boundaries imposti al modello, erano troppo stringenti. E quindi nel tentativo di essere più diverse possibile, ecco, Google ha impedito di generare delle cose che invece erano storicamente accurate e quindi, diciamo, c'è stata un'overcompensazione, ecco, dei bias storici dei modelli. Quindi un tentativo di renderli più moderni in realtà va a inficiare la produzione di materiale storico. Ecco, questo è un po' il problema, e però vedremo un po' come sarà risolto. E nell'ultima settimana abbiamo avuto anche due novità da Stable Diffusion, che ha rilasciato due nuovi modelli. La prima news è proprio sul modello Stable Cascade, che è totalmente nuovo, la vado a prendere sempre da D-Day, sempre da Sergio Donato, ormai nostra grande fonte autorevole. Ecco, parla appunto di quest'articolo di Stable Cascade. Stability AI, che è la società appunto che ha realizzato Stable Diffusion, ha rilasciato un modello tutto nuovo, text-to-image per creare immagini dal prompt testuale. Si chiama Stable Cascade e si propone di ridurre 16 volte i costi necessari all'addestramento. E la riduzione dei costi è determinata dall'architettura Wurschen, o Wurschen, boh, avrò sbagliato tutto. Comunque questa architettura su cui si basa Stable Cascade. Wurschen è un sistema di codifica autoregressivo per la compressione di immagini. Per sistema autoregressivo, dice Sergio Donato, si intende un modello statistico che rappresenta una sequenza di dati come una serie di variabili casuali dipendenti l'una dall'altra. In parole povere, il sistema predice il valore di ogni elemento della sequenza in base ai valori degli elementi precedenti. La rete convoluzionale di questa architettura viene addestrata con una serie di immagini campione per le quali impara a riconoscere le caratteristiche visive e calcolare la probabilità di occorrenza di ciascun particolare, cioè praticamente ciascun token, in base al contesto locale. E durante la fase di generazione l'architettura crea un'immagine compressa, per esempio di un volto, suddivisa in piccoli blocchi di pixel, ad esempio 8x8. Ogni blocco viene codificato come un token e quindi poi questo dizionario potrebbe includere codici per diverse caratteristiche visive, come occhi, naso, bocca, capelli, dando ad esse probabilità diverse, ecco di essere presenti poi all'interno dell'immagine. La compressione riduce la quantità di dati da elaborare durante la generazione, velocizzando quindi il processo e questo fa sì anche che non è necessario memorizzare una grande quantità di immagini pre-generate né partire dal rumore di pixel per poi rimuore in fase successiva questo rumore per ottenere l'immagine finale, che è un po' la generazione classica insomma delle immagini, dei modelli text to image. E stable diffusion parte sempre da un'immagine rumorosa, pixelosa, ecco, da pixel che devono essere riordinati, però queste immagini sono compresse e quindi anche lo sforzo computazionale è molto inferiore. Infatti Stability AI spiega che i precedenti modelli stable diffusion utilizzano un fattore di compressione pari a 8, quindi possono codificare un'immagine 1024x1024 in 128x128, mentre Stable Cascade ha un fattore di compressione 42. Non so se è casuale questo numero, comunque questo significa che è possibile codificare 1024x1024 in 24x24. Tecnicamente Stable Cascade è composto da tre modelli, Stage A, Stage B e Stage C, che rappresentano questa cascata per la generazione di immagini, da cui proprio il nome, Stable Cascade. E si parte dallo Stage C, o C, insomma, lo Stage C del generatore, che trasforma gli input testuali in immagini latenti, compatte 24x24, che poi vengono passate al decodificatore di latenti, che sono gli Stage A e B. E questo è utilizzato per comprimere le immagini, in modo simile a quello che fa Stable Diffusion, ma utilizzando una compressione molto più elevata. E inoltre, disaccoppiando la generazione del prompt testuale, che è lo Stage C, dalla decodifica in alta risoluzione, anche degli Stage A e B, Stable Cascade può consentire l'addestramento aggiuntivo, il Fine Tuning, che comprende sia Control Net che Lora. Adesso, Control Net non l'avevamo mai visto, è sempre un modo per fare Fine Tuning. Lora, invece, è sempre Lora Anka Adaptation. E questo comporta una riduzione dei costi di 16 volte rispetto all'addestramento di un modello Stable Diffusion di dimensioni simili. Ma questa non è l'unica novità da Stability AI, perché settimana scorsa c'è stato anche l'annuncio di Stable Diffusion 3. Quindi, nuovo generatore di immagini, proprio versione 3 del popolare Stable Diffusion. Anche questo è Open Weight, segue appunto l'evoluzione del suo predecessore, insomma, di Stable Diffusion, con una qualità ancora superiore, e anche un'attenzione alla generazione dei testi. Non c'è ancora una demo pubblica, però c'è una waitlist. Se foste interessati, ecco, potete accedere per essere, insomma, informati su quando sarà disponibile per voi. Stable Diffusion 3 è una famiglia di modelli. Si va da 800 milioni di parametri a 8 miliardi. In questo modo si adatta anche all'essere utilizzato su piattaforme diverse, su device diversi, ecco, dagli smartphone, naturalmente, fino ai grandi server. Naturalmente, più parametri ci sono, più vengono generate immagini dettagliate e che richiedono anche potenza maggiore e soprattutto molta più RAM. Per quanto riguarda il lato tecnico, qua, in realtà, se mi state guardando, c'è una comparazione tra un'immagine generata dall'E3 e da Stable Diffusion 3 con lo stesso prompt. Vedete che Stable Diffusion 3 è più attenta nella generazione del testo, un pochino più precisa, e anche nel risultato finale, complessivo dell'immagine, nella sua adesione al prompt. E infatti, questa è proprio una delle tecniche che vengono utilizzate, che si chiama Flow Matching, che è appunto una nuova tecnica nella generazione di immagini, che va a fare un'attenzione particolare al risultato finale, cioè alla direzione che sta prendendo la generazione dell'immagine, invece che sui piccoli particolari, ecco, si fa vedere un po' qual è la direzione complessiva della generazione che si sta prendendo in un certo momento. Il SEO di Stability ha inoltre detto su Twitter che questo modello segue un'architettura Diffusion Transformer, che abbiamo visto anche un po' con Sora, no? Quindi sono tecniche che finora erano utilizzate su modelli testuali che generano testi, invece adesso stanno venendo utilizzate anche per generare immagini e video, si è visto che queste tecniche funzionano. Quindi anche Stable Diffusion va sul Transformer e effettivamente sembra funzionare per i portù c'è immagini di buona qualità. Non è ancora disponibile pubblicamente Stable Diffusion 3, però, insomma, quando sarà rilasciato sarà libero e disponibile ad essere scaricato e provato localmente da chiunque. Chiudo con un paio di news molto veloci, sempre sull'AI. La prima riguarda Apple. Apple sta investendo nell'AI, anche se un pochino più silenziosamente, no? Però i tool AI di Apple iniziano ad essere numerosi. Ce n'è un nuovo, si intitola Keyframer ed è un tool, insomma, che si basa sempre sul modello che a sua volta è costruito sulla base di OpenAI che permette di animare delle immagini. In pratica permette di animare degli SVG, cioè voi date in pasto a questo tool un SVG, gli dite attraverso un prompt testuale come vorreste animarlo e Keyframer vi produce del CSS che consente di animare quell'SVG. Quindi è pensato per generare delle piccole animazioni, magari il loading di un sito web, ecco. Però è interessante perché, come dicono anche i tecnici di Apple, potrebbe far vedere proprio quale sarà l'evoluzione dei modelli AI perché le animazioni sono qualcosa di ancora poco esplorato e invece hanno tante potenzialità e quindi in questo caso insomma ne potremmo vedere una in azione, cioè proprio l'animazione di una immagine già esistente, in questo caso un SVG, attraverso il codice, attraverso il CSS, ecco perché qua si chiama Keyframer, no? Che non è ancora disponibile pubblicamente, tra l'altro il paper rilasciato da Apple comprende soltanto 13 persone, quindi un piccolo team, ecco, che ha rilasciato questo tool e con soltanto due esempi di immagini SVG, però insomma potrebbe essere una cosa che evolverà e quindi teniamola d'occhio, insomma. Apple non è totalmente assente dalla corsa all'AI e qui sta rilasciando a poco a poco dei piccoli tool. In ultimo ultimissimo, anche Find è un bel progetto da tenere d'occhio, un modello che va soprattutto nella direzione di dare delle informazioni agli sviluppatori, quindi se andate su Find, come vi ho molto spesso consigliato di fare, ecco potete chiedergli di generare codice, di darvi informazioni su un software, su una libreria, fare delle ricerche online, perché Find è anche un motore di ricerca che ha accesso al web. Ebbene, Find ha rilasciato un nuovo modello, si chiama Find 70B, quindi 70B è naturalmente il numero di miliardi di parametri, ebbene, secondo i dati rilasciati sempre da Find, è un modello che rilascia codice in ottima qualità, scrive codice in ottima qualità. Secondo la compagnia è a livello di GPT-4 Turbo, quindi potenzialmente abbastanza una bomba, si basa sul modello Codlama 70B ed è ulteriormente addestrato con fine tuning su 50 miliardi di token addizionali, quindi con improvement significativi, e ha una context window di 32 mila token. La context window è il numero di parametri che potete passargli a ogni prompt, ecco, e quindi è molto significativo, no? Quanti token riesce a gestire un modello in un prompt, perché permette di migliorare la qualità della risposta. Find 70B è già disponibile, quindi se andate su Find in maniera gratuita, anche senza iscrivervi, potete provarlo, e quindi io vi consiglio sempre di andare a vederlo, perché le performance sembrano buone, sembrano anche più buone di GPT-4 Turbo, e abbiamo un modello gratuito, quindi Find. Vi do due link, ma siccome non ho tempo non ve li commento. Il primo, Il titolo insomma dice tutto, è il resoconto di una settimana di test vari con Gemini 1.5 Pro, e il resoconto è abbastanza entusiastico. Insomma, ci sono molte considerazioni tecniche, che è sul numero di token con cui è arrestato il modello, e sulla larghezza della context window, che fa la differenza, ecco, rispetto ad altri modelli. Insomma, non aggiungo altro. Se vi interessa un po' capire come funziona tecnicamente, e quanto è avanzato Gemini 1.5, Gemini Pro 1.5, consiglio questo blog post, lo trovate su every.to, e vi lascio naturalmente il link in descrizione. E l'ultimo che vi do è curioso, è una issue github, che trovate sul repo pkgxdev.puntry, la issue si intitola I'm confused, what's with the project descriptions? Ed è un utente che si è accorto che questo package manager genera le descrizioni dei pacchetti con un tool di AI. Non solo le descrizioni, anche le immagini dei pacchetti con tool di AI, e queste descrizioni sono spesso totalmente sbagliate, totalmente inventate, piene di allucinazioni. E tra l'altro, cosa ancora più curiosa, alla issue, al primo commento in questa issue, ha risposto un bot in AI, quindi è ancora peggiore la situazione. Insomma, è una cosa abbastanza curiosa, poi c'è anche il mantener del progetto che interviene a spiegare un po' cosa ne pensa. Io ve lo lascio qui, riguarda sempre l'AI e la programmazione e l'open source, perché qua siamo in contesti open source. Secondo me, vale la pena andare a scorrere un po' questi commenti, perché comunque a me hanno fatto sorridere in questo weekend. Ed era tutto per questa puntatona del buongiornissimo, grazie per avermi seguito, noi ci sentiremo in una prossima puntata, non parleremo di AI, spero, ma ci sono delle notizie interessanti riguardo invece Lockbit, perché rispetto a quanto avevo raccontato nell'ultima puntata, insomma ci sono delle novità e quindi andremo un po' probabilmente a vederlo nei prossimi giorni. Grazie di nuovo per avermi seguito e alla prossima. Ciao!